ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui abbiamo il set di aggiornamento calciatori panini figurine 2019 2020 ecco qua la team box che include 48 figurine una checklist e cinque punti calcio regali il reto della confezione vabbè ci dipende insomma che cosa contiene la team box questo è il set di aggiornamento appunto eccola qua la team box allora apriamo e vediamo queste 48 figurine ed eccola qua la team box fuori dalla scatola fatta in latta ecco qua com'è il retro ora la apriamo e vediamo che cosa c'è dentro allora queste sono le 48 figurine questa sarà la checklist si beh la vediamo dopo la vediamoci prima le figurine ok eccole qua questi sono i punti calcio regali eccoli qua si vede quelli lì vediamo successivamente le vediamo le figurine allora balac a lecce gudrone che da volverento torna in italia alla fiorentina borini dal milan all'ellas verona tamedze masiello asci del young dall'unite dall'inter barro dall'atalanta al bologna caston pereiro dal sud america al cagliari donati che dall'everkusen comunque dalla germania non penso che sappia l'everkusen torna in italia a lecce il cavallero nico verami grado tonnelli i nuovi allenatori in brescia che va del l'hobez che va al brescia sostituire colini di chini alla fiorentina sostituisce montella unipazzi alla spalla ibra che torna al milan lo potca rosato vigliare cerri chi diacopulos chiere e qui altri sostituzioni in panchina cattuso a napoli sostituisce ancelotti nicola al genoa caprali che dalla santo valparna jaco falchi dal torino al genoa caldata dal mina torna all'atalanta per in dalla juve torna al genoa moses dal celsio all'inter dominguez bianna sadorna in italia lugani degli ola paloschi dalla spalla al cagliari sumarò dal genoa ericsson al totterham all'inter duncan dal sassuolo alla fiorentina curano in cespalle kurti c'è la spalla al parma politano dall'inter al napoli charles perez al barça alla roma zegelar modinese altre sostituzioni in panchina di viaggio alla spalla lungo al torino che sostituisce mazzati salemekers al minan demme al napoli da del bullipsia uno verese che ritorna dal prestito alla roma castro al cagliari alla spalla tosby alla samp e infine saponara a lecce e questi sono tutti gli aggiornamenti che troviamo nella team box relativi appunto al carciomercato di gennaio queste sono tutte le 48 figurine che troviamo all'interno questa è la check list che l'ho aperta l'apro adesso perchè da prima prima poi ci rovinavamo la virgoletta e la sorpresa delle figurine che troviamo all'interno e infatti ci dice vedete la lanta caldara da mezza che insomma ci dice ci pare l'elenco delle squadre con i giocatori che abbiamo trovato in figurina all'interno della team box questa è la check list ok ragazzi il video si conclude qui iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un mi piace in descrizione vi lascio anche il link della pagina facebook e della pagina instagram del canale se volete seguitemi anche lì iscrivetevi al canale vi ringrazio per la visione e noi ci becchiamo al prossimo video ciao ragazzi grazie grazie